Il Centro 06 Il Coala Blu è un nido di infanzia autorizzato e accreditato con il Comune di Firenze e una scuola di infanzia paritaria, dove progettualità, organizzazione di ambienti e ritmi quotidiani promuovono la continuità educativa 06 anni. La documentazione è parte integrante del progetto educativo perché dà valore e visibilità ai processi di apprendimento dei bambini. La cura degli arredi e del materiale dedicato al gioco simbolico del travestimento e della cucina favorisce la relazione tra pari e nello stesso tempo permette di familiarizzare con azioni rituali tipiche di una merenda o di un pranzo educativi. Molta importanza è riservata al gioco in giardino, dove i bambini in piccoli gruppi possono esplorare e osservare dal vero la realtà. Molta importanza è riservata al gioco in gioco in gioco in gioco in gioco in gioco da limiti e risotto. A parte delle caratteristiche di un'occhiata e ricomo sono soli��가 diretti che di fare alla fronte e diretti che di risdi, a parte delle caratteristiche di un'occhiata, dove i bambini in piccoli il nostro corso troppo nella maniera di casa, a parte delle caratteri, dove i bambini in piccoli a chiudere i bambini in gioco in gioco in gioco in gioco in gioco in gioco e rizzo, L'esploratorio scientifico permette ai bambini di osservare la natura, i suoi fenomeni e cambiamenti climatici attraverso strumenti analogici e digitali, fornendo così occasioni di gioco e ricerca. Lo spazio della costruttività propone molteplici tipologie di materie e materiali anche non strutturati, di scarto o di riciclo e offre ai bambini diverse possibilità di gioco, costruzione e invenzione. La falegnameria didattica è un ambiente laboratorio pensato e progettato per avvicinare i piccoli gruppi di bambini al gioco manuale e artigianale e nello stesso tempo affinare la motricità fine in modo creativo. Grazie per la visione! Grazie per la visione!